ciao a tutti noi siamo le cuoricine benvenuto bentornati nel nostro canale allora oggi sono qui con voi per farvi vedere un pacchettino fresco fresco mi è arrivato da pochissimo è solo uno proprio lo voglio far vedere perché lo voglio condividere con voi allora io già l'ho aperto e però non ho sbirciato giuro credetemi e vi faccio vedere vediamo insieme qui c'è il sarebbe il volantino di scino guardate qui ma non ci interessa andiamo a vedere il prodotto che è arrivato è arrivato ragazzi in questa bustina piccolissima sono degli anelli guardate e adesso mi ricordo perché l'ho preso l'ho preso solamente per un anello che mi interessava e prima di tutto l'ho preso perché diceva che erano di plastica adesso io cioè pesandoli tenendo in mano mi sembrano di plastica mi sembrano di ferro comunque c'è questo e nonostante tutto io schifi i serpenti ho preso comunque questo set di anelli dove c'era anch'esso però adesso questo finirà subito nel battume non lo voglio neanche vedere perché lo so è finto di plastica però solo la sua immagine mi mi dà schifo comunque c'era questo nel set questo e il serpente e poi c'era anche questo anellino qua questo vedete tutto pieno di questi buchetti rosa comunque niente ragazzi c'è secondo me di ferro guardate non sembra plastica adesso lo mettiamo sul dito l'ho messo qui e mi sembrano di ferro non mi sembrano di plastica boh non lo so comunque niente poi testeremo io vi ringrazio per la view e se vi è piaciuto questo video questo breve di video lasciate un like ed attivate la campanella iscrivetevi e mi raccomando se non siete iscritti e niente io come al solito vi auguro buona giornata e ci vediamo al prossimo video